Grazie a Anas e le strade italiane più belle, da oggi è disponibile un nuovo strumento per inviare segnalazioni sullo stato delle strade, direttamente con il tuo smartphone. Sul sito anas.lestradeitalianepiubelle.it puoi scaricare la web app dedicata. Rilevata la tua posizione sulla mappa, cliccando semplicemente su inserisci, è possibile aggiungere la foto scattata, scegliere il tipo di segnalazione, fornire i propri dati per essere contattati e dare un giudizio complessivo sulla strada. Un nuovo strumento per la sicurezza stradale e il comfort di chi viaggia, ma anche per far conoscere le nostre strade più suggestive.